Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Finalmente sono ritornato dalla Maker Faire, anzi bensì da due settimane, credo che questo video uscirà un po' in ritardo. Volevo ringraziare principalmente tutte le persone che si sono fermate al mio stand, in particolar modo Attilab, il quale è passato per il mio stand, abbiamo fatto due chiacchiere. Le persone che sono venute alla Maker Faire sono state veramente tantissime, infatti sono stati tre giorni molto pesanti. Tutto ha avuto inizio giovedì 17 ottobre, sono partito prestissimo la mattina, circa verso le 5, alla fine grazie a Google Maps sono riuscito ad arrivare alla fine di Roma, poi con calma dalle 10 fino alle 5 di pomeriggio ho fatto l'allestimento del mio stand. Come avete potuto notare io avevo due stand a disposizione, il primo stand era semplicemente per la stampante e la casa domotica, invece il secondo stand era il lato gaming, diciamo, infatti ho allestito la parte dove si poteva giocare con la pedaliera, il cambio sequenziale e il volante. Infatti è stato il progetto che ha attratto più persone, anche perché la fiera più che altra ha avuto come durata tre giorni, quindi a utilizzare il volante, la pedaliera e il cambio per tre giorni pian piano si è consumato. Mi scuso con tutte le persone che non hanno potuto provare il joystick, però d'altronde sicuramente se avranno intenzione anche loro di realizzare questo progetto sono a completa disposizione. Come punto di vista da espositore, credo che sicuramente è stata una fiera molto stressante, perché dato che ero costretto a stare lì la maggior parte del tempo a parlare con le persone, non ho avuto modo di andare a girare gli altri stand. E non mi resta che ringraziare tutte le persone che sono venute lì a trovarmi, anzi mi ha fatto veramente piacere scambiare due chiacchiere con voi, non mi resta che dare l'appuntamento settimana prossima, finalmente, con un nuovo tutorial. Credo che fra poco preparerò anche lo speciale 1000 iscritti, perché sono molto vicino e spero che non rimariate delusi. Un saluto da NGMAX, al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.